Quattro incendi scoppiati nella notte e domati solo nella mattinata. Hanno bruciato circa 50 ettari di terreno nel Pescarese. Il rogo più esteso si è verificato a Turri Valignani dove sono andati bruciati 27 ettari coltivati a foraggio. Mietitura e raccolta erano stati già effettuati per cui il danno è stato limitato almeno da questo punto di vista. Le fiamme anche sotto Bosco e Pini in località Pescarina. Le fiamme sono state spente alle 7 dopo l'intervento dei vigili del fuoco di Alanno e Pescara e volontari della protezione civile di Castiglione a Casauri a letto Manopello. A scopo precauzionale è stato necessario evacuare alcune case ma non sono stati registrati danni. Altro incendio a Manopello in località Santa Maria Rabona dove sono andati bruciati circa 10 ettari di terreno incolto. A lavoro dalle 5 alle 7 i vigili di Pescara. A Caramanico in località Salsa e Case Monache due roghi hanno mandato in fumo 6 ettari di macchia mediterranea tra l'una di notte e le 6 di questa mattina. Impegnati i pompieri di Alanno, la forestale di Caramanico e la protezione civile di Castiglione e Montesilvano. A Scafa dalle 3 alle 6 i vigili di Alanno e Pescara hanno domato un incendio tra le località Marulli e Solcano per un totale di 7 ettari di sottobosco. Presenti anche i volontari della protezione civile di Pescara. Per tutti i roghi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di popoli che temono possa esserci la mano dell'uomo.